So baby tell me one more beautiful light, one touch at night this night E salve a tutti ragazzi, non perdiamoci in chiacchia perché Dokkan ha fatto la cosa più bella che potesse fare Saluto a tutti velocissimo, veramente Ma guardate questo banner, cioè, non lo so, Ranger 17 A step up, quindi PG garantito ragazzi Vegeta Evo, Tarles, Jiren, Goku Ultraistinto, Golden Freezer, che va bene, un'altra copia mi sarebbe Minchia Bardak, Gohan, vaffanculo, Gogeta 4, Omega, oh vabbè Broly 3, Gotex, Gogeta Int, Janemba, Kid Buu, non ti voglio, ok, non ti voglio, Goku, Vegeta Tutto c'è qua, in questo banner c'è tutto Non manca niente, anche un Broly Ezza mi andrebbe comodo Quindi, prima multi, Ezza garantito, seconda multi, Neo God Leader Super garantito Terza multi, Neo God Leader Extreme garantito Minchia, oh, Vue Satan Cazzo, Vue Satan Poi abbiamo, category garantito e ultima ragazzi, LR garantito, cioè, fenomenale sto banner Chi non pulla qui, non pulla tutto l'anno, visto che oggi è il primo E colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti comunque ragazzi E vediamo un po' cosa troviamo Di Ezza vorrei, Broly, Cell, forse Beerus, perché non c'è neanche una copia Tanto qui non troviamo niente Ottimo, perfetto Noi partiamo benissimo E io ho visto trovare l'LR nella multi da 20 E noi troviamo Muten Perfetto Dimmi Dai, cos'è? Gohan, va bene, dai Lenza che non ho mai usato in vita mia, però va bene Gohan ci sta, dai Mi accontento di Mettistone mi accontento di Gohan Sono garantito, che schifo Quindi adesso abbiamo un Neo God Super Perfetto Ricordo che i Neo God sono quelli che hanno Chi più 3 è 120 Gli attacchi difese Quindi Super Saiyan 1, Super Saiyan 2 Dammi il 3 3, dammi il God S Chiedo troppo Troppo Sarebbe stato troppo OP Eeeh, 19 Eeeh, Videl Eeeh, tutte R Minchia Eeeh, SR Devo dire che Sul Global siamo sempre così Questa è la penna regalata, sta carta Che pesa per il culo Eeeh, ma che che filo, guarda Bah, prendiamo Goku Super Saiyan 2 Ma che schifo Dai C'era molto di meglio Ability 1 Lo usiamo nel Super Saiyan 3 Se trovassimo Bardak Minchia, è vero, qua c'è Bardak Quindi dobbiamo Nella category Dobbiamo sperare nella category, ragazzi Eeeh, ma dammi cazzo Che figo Bu Dammi l'LR Dammi l'LR Niente Stiamo nel By Guys Mai avuto By Guys con Miss Satan e Bu Ho visto da TTD e mi ha detto Cazzo, non mi è mai capitata una roba del genere Partiamo con Zamasu Fighissimo Sì, certo Ciao Ozi Pensa poi se io devo spendere il soldo Per trovare Ciao Ozi Frost Broly Eza, ok Eeeh, lo portiamo Ability 2 Così Perfetto Anche se Allora Noi stiamo puntando a Broly LR, ragazzi Ve lo dico, sapete che è il mio sogno Broly LR E nel Global non ce l'ho Però Broly Eza per i tornei va benissimo Adesso lo portiamo Ability 2 Abbiamo Nessun seri assicurato Vediamo Ok, Vegeta Adesso l'ultimo PG è questo Dove essere Oh, Kid Buint No, cazzo Ability 1 Anche Kid Bu Perfetto E intanto le stone se ne vanno Gogete e Broly Me le sogno Perché ragazzi Eeeh, ma cos'è? Un altro Sì, vabbè Che cazzo mi riesci a fare Se poi non mi dai neanche l'LR La cascione di un gioco Allora Ti prego Tira fuori una Cazzo di LR Una Va bene, ok Io ho capito che qua dentro In sto gioco di schifo Non spulerò mai Noi troveremo un'LR Solo perché è garantita Cioè Devono darcela per forza Quindi va bene Tutto SR Che schifo Eeeh Ciao 18 Eeeh L'SSR E' mai di Valentino Che schifo Ragazzi Io spero che Abbiate scurato Più di Golden Engine Ability 2 Ecco Lo uso contento L'ultimo Ultimo Golden Engine Ma minchia Però c'è una Bardak Qua dentro Cazzo Ragazzi abbiamo la Multi con le LR Dai Faffanculo a Bardak Questo Quello e quell'altro Vabbè Golden Engine Ability 2 Mi fa impazzire Di Ability 1 Golden Mi vedo l'ora di provarla Di Ability 2 Perché sarà un mostro Perché Ma dai Ma che animazione di merda Abbiamo le LR Ragazzi Broly Allora possiamo Io spero Super Saiyan 3 Ami God Vinto Spero di trovare Broly Magetta Per completare Il Il Bussaga E poi Chi Chi vorrebbe No Black No Oh lo switch Lo switch Lo switch Si Cazzo Bardak Si Si Dio mio Bello C'ho Bello C'ho Super Saiyan 3 Adesso Ma dai Tu hai pulato Su Gohan Per trovarti E mi sa Che Quindi Stone su Gohan Basta Non ne butto più Adesso aspettiamoci La LR Ragazzi Broly Dai Mi sento Broly Mi sento Broly No no Yamcha No Mi sento Broly Goku Goku 3 LR Perfetto Ragazzi Ce lo portiamo Ad ability 1 Con Bardak Poi Cazzo Riccioco Tutte e due Insieme Che bello Ma che Multi Bello Bardak Pam Lucchettino Perché tu Non scappi Via Ti porterò Da 20 1 Adesso Ma sai quanti Cazzo Ti devo provare Nell'evento Di Hildegard Ti giuro Voglio vedere Quanto Cazzo Tiri Andiamo con La Multi Da 20 Anche perché Dopo Devo staccare Ripartiremo Col video Facciamo Il secondo Giro Oh Fusione Grande Fusione Nella Multi Da 20 Ti prego Da 1000 LR Please Please Dokkan È il primo Del 2019 Fammi scurare Ti prego Non voglio Frost Non voglio Kiki Non me ne fraccio Niente Genius Ne puoi andare A fare in culo Ub Tu puoi anche Seguirlo Dai ma Che rate up DSR Però Minchia Si poi Ok L'ultimo Solo L'ultimo PG Tora Gon Ma perché È solo Lui Ok Broliezza Basta Non ti devo portare A full ability Ability 2 Mi va già bene Anzi Adesso Ability 3 E io come un coglione Ho usato le stone rosse Per lui Saperlo Comunque Va bene Intanto Abbiamo ancora Lo step da fare Quindi finiamo L'ultimo giro Non ti pullo più Non ha più senso Pullare Sulle altre banner Hit L'abbiamo trovato La prima multa Lo sapete benissimo Andiamo a vedere Cosa abbiamo preso 7 LR No no Ma che è 7 6 Perché ability 1 Ability 1 Ti porto Baby Potevamo trovare Di meglio Vabbè Tandes non lo volevo Perché portavo Ability 2 E non ne faccio niente Alla fine mi serve Il buff Kid V Ability 1 Vaffanculo Abbiamo Bardak Ma che bello Vinci ability 2 Golden Con Kid Però vabbè Andiamo a vedere Bardak Guardalo Guardalo Dio mio Che bello Ti devo portare a tour Adesso ci sono tutti gli eventi disponibili Ti porto a tour Anzi vediamo Cosa posso fare Di Team Super Saiyan 3 Sì da che abbiamo questo Allora Super Saiyan 3 E lì Bella Allora Bardak Goku LR Gotenks Goku Tech Goku Evolution Non è Evolution Vabbè Goku Metteremo Quando uscirà l'Ezza Di Vegeta Super Saiyan 3 Mettiamo lui Sì Se no mi gioco Il Goku Buffer Che bello Che sei Mamma mia Mi servivi per l'Ezza di Cell Adesso vaffanculo Non mi servi più Comunque ragazzi Ammettiamolo Dokkan ha preso Una delle cose più belle di Legend E l'ha resa perfetta Perfetta C'è un PG banner garantito Legend ti dà un ticket Con l'SP garantita Va bene Ci sta Qui c'è 200 stone Abbiamo 5 PG garantiti Di cui uno è un LR Ed è qualcosa Di fenomenale E comunque Vedete Pam Ricaricate le stone Abbiamo rifillato E noi cominciamo Col secondo giro Ricordiamo che abbiamo trovato Un Brawl Ieza Come primo step Non ce ne facciamo niente Ma è 23 Diciamo che Noi partiamo con Vegeta Dammi la Fusion Ciao Vegeta Release Non c'è Fusione Sì cazzo Super Vegito Che sei bello Vegito Sei bellissimo O sto video Ragazzi O Majin Buu Sopra Cioè Oh Vaffanculo O O coso Satan sopra Buu O Vegito Ma non Mi hanno trovato Un cazzo Quindi Anche se Se spuliamo Così tanto Sempre solo SSR Di merda Anzi Neanche Sì Vegeta B1 Finalmente non fa più schifo il mio super Vegito Goku 4 Ability 1 Goku 4 Ability 1 Sì Poteva uscire Vegeta Che non ti ho ancora trovato Anche se non mi servi Comunque ragazzi Io lo dico adesso Arriva l'anniversario Jap Il mio presentimento è che arrivano Gogetta LR 4 Gogetta 4 LR Release ancora da Vegito? Un'altra fusione Dio mio Però voglio l'LR Me la merito Ti prego Mi metto a piangere in giapponese Se mi dai l'LR Siamo arrivati a 12 minuti di video Dokkan 12 minuti che la gente mi sta sopportando qua dentro Ciao Bardak Ti userò per S Di quello super S3 Nice Piccolo Qui Che schifo Dai ma dove cazzo sono tutti i PG Adesso ci sono un sacco di PG banner Quindi alla fine i Rates sono scandalosi Però vabbè Non possiamo andare avanti solo con l'SS R garantito Questa è uno switch Cazzo stavo chiedendo Eh? Eh grazie Dokkan Grazie Gone Fake LR Wow Sì Sì che si scula con Janemba Anche se Lint ormai Ti fa un boffo Però va bene dai Mi serviva di più per la Rodex Di mia STF Ragazzi Con questo Quando potete essere felici Quando Avete L'SSR garantita Ok Perfetta Bella E il resto Tutte essere Di schifo Cioè Dai fonditi Tanto non mi dà un cazzo Fonditi dai Se hai le palle fonditi Sì Sì Vado piano Carichiamo Release Fonditi Se sei stronzo Fonditi Sei fuso Dio mio Come sei una merda Si è fuso Si è fuso Non mi dai un cazzo Lo so Radice Super Saiyan 3 Nero Black Radice Bulma Ehm Gotte Sono cose trunks No Ma ti ho full ability Ok Per le ragazze Abbiamo la seconda copia Che porteremo a Turre Così Per sfogo Vegetarismo Sì Non ti ho pullato Sul tuo banner Dio grazie Che non ti ho pullato Dio grazie È vero che questa È la multi della categoria Quindi vediamo Chi troviamo da Ranger Ci vorrebbe Ranger Ragazzi Altra Vegeta Ability Mi sembra la multi Di Tarles In una multi Ability 1 Direttamente Pam Boh Mi sono fatto anche Vegeta Evo Non mi serve più Trovarlo Non ne faccio più niente Quindi Diciamo che abbiamo fatto Un bel Rian Adesso Anche se Vegeta Tech Ci vorrebbe Eh sì Adesso c'è l'LR Qua dentro Cosa mi dai Oh Oh ragazzi Oh l'ho chiamato prima Buo satan con il Bye guys It's over freezer Dammi il doppio Oh doppio Eh cosa Doppio crack di screen Sta cacata Cazzo mi dai Kale Vai avanti Dammi l'LR Dammi la seconda LR Dai Due l'LR in una multi Dai 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 che a me non riesco a registrare Due l'LR in una multi Non l'ho mai fatto L'ho solo trovato Trunks doppio Comunque ragazzi Se il video vi è piaciuto Mettete un bel like Non l'ho ancora detto Allora Vi avviso che Farò Un altro giro Doppio giro Su Sul jump Perché Stamulti non si può schippare Non me ne potete niente Di Gogeta e Broly Vaffanculo Stamulti non si può schippare Quindi vi porterò La versione jump Di questo banner E ci portiamo a casa Una nuova LR Peccato che non c'è l'evento Quanto cazzo devo aspettare Devo farmi Raggetta e virus LR No Ti dammi qualcos'altro Comunque ragazzi Vi porterò anche un bel Mega pool State attenti Io vi ringrazio Vi saluto E ci vediamo al prossimo video Ragazzi Ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti